Pede Montana, la regione sceglie la tratta di breve per collegare la tangenziale est alla A4, d'annunciarlo all'assessore alle infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi. Una soluzione progettuale, dice Terzi, che permetterà di migliorare la funzionalità dell'opera, oltre che ridurre il consumo di suolo, l'impatto ambientale e anche i costi. Si tratta in particolare di un nuovo collegamento tra V-mercate e la tangenziale est esterna di Milano ad Gratebrianza a tre corsie per senso di marcia e prevalentemente in trincea, che si svilupperebbe per una lunghezza ridotta a circa 10 chilometri rispetto ai 16 della tratta D originaria. Ha spiegato l'assessore in risposta a un'interrogazione presentata da alcuni consiglieri di maggioranza in merito all'iter procedurale in corso rispetto alla nuova tratta D e alle tempistiche di realizzazione delle tratte B2 e C di Piedemontana. Procede inoltre il confronto e il dialogo con gli enti interessati dal progetto, con cui Regione Lombardia è in costante contatto. Se proseguire formalmente le interlocuzioni con gli enti interessati, intercorse fin dallo scorso anno sia in Regione che per il tramite della provincia di Monza e dell'Abrianza, spiega l'assessore, sono stati convocati per la prossima settimana sia la segreteria tecnica, in programma martedì, che il collegio di vigilanza dell'accordo di programma per la realizzazione del sistema viabilistico Piedemontano Lombardo per il 16 giugno, dove sarà presentato il tracciato rivisto con le ultime indicazioni. L'obiettivo, conclude Terzi, è apportare ulteriori miglioramenti ai fini dell'inserimento territoriale di questa importante opera. Proprio pochi giorni fa la provincia aveva deciso di non inserire, come invece richiesto dalla Regione, la tratta di breve nel proprio PTCP, in attesa agli ulteriori approfondimenti sull'impatto viabilistico e ambientale dell'opera.